Ci troviamo a cena sociale di Natale, organizzato dalla Virtus Castelfrentana per tutti i loro interati, familiari, amici, parenti e intorno. Ci troviamo nella sala, fra poco si riempie, ci troviamo a mettere sopra 250, qua c'è la professoressa Cristiana Antonelli insieme al suo studente Iocco Leonardo e Angelo Iocco. Vuoi fare qualche ripetizione a vola?